E' atterrato alle 18.25 qui a Linate dopo un lungo viaggio partito dal Brasile, passando poi per Amsterdam dove ha fatto scalo ed è ripartito alle 17.08. Clarence Edolf torna a Milano un anno e sette mesi dopo il suo addio, ma questa volta da allenatore. Una ressa di fotografi, giornalisti e tifosi ha accolto Edolf che ha risposto con saluti e sorrisi. Il tecnico rossonero si è subito avviato allo stadio San Siro per salutare la squadra dopo la gara di Coppa Italia tra Milano e Spezia. E domani sarà a Milanello per iniziare ufficialmente la sua avventura in rosso-nero. E' un'avventura che continua. E' un'avventura che continua. E' un'avventura che continua. Guarda! Guarda questa parte! Guarda da questa parte, Gioanchino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.